Benvenuti a Sociale in TV con Imperia TV, infatti prosegue nell'ottica di fare informazione pubblica e oggi ospita il dottor Giovanni Mascelli. Benvenuto dottore, lei è medico cardiologo ed è presidente della neonata associazione Cuore in Movimento. L'obiettivo è fare prevenzione cardiovascolare e per lei è un sogno che si avvera, è così? Sì, in realtà io da tanto tempo, io ho lasciato da pochi mesi il ruolo di responsabile della cardiologia dell'ospedale di Sanremo e diciamo che in sintesi dopo 30 anni oltre di lavoro accanto al malato acuto e quindi avendo assistito anche i progressi della cardiologia nel riuscire ad avere dei successi enormi sulle malattie una volta considerate quasi incurabili, diciamo che questa esperienza mi ha aperto gli occhi su un altro aspetto molto importante, quello della fase successiva al trattamento della malattia acuta, perché ormai curiamo i malati in maniera efficiente ed efficace in pochi giorni, quindi addirittura il malato non riesce in tanti casi ad avere la consapevolezza della gravità della malattia. Questo fa sì che nella fase successiva, che è quella più difficile, quella in cui bisogna ottimizzare e concretizzare i risultati ottenuti, si perdano quelle buone abitudini che sono riassunte nella parola stile di vita e che devono fare in modo che il paziente non ritorni di nuovo in ospedale vittima della stessa malattia per le cause che nella maggior parte dei casi lo hanno portato all'ospedale. Ecco, a chi si rivolge l'associazione e cosa intende fare? Certo, lo spirito dell'associazione, io intendo di fare delle cose molto semplici, lo spirito dell'associazione è quello sostanzialmente di creare la cultura della prevenzione, perché prevenzione è una parola, prevenzione e stile di vita sono parole che sia in media si sono sempre preoccupati di divulgare e di far conoscere la gente, ma nella maggior parte dei casi è rimasta una parola. Quindi la cultura della prevenzione non è la cultura di quella persona che ha paura della malattia e quindi sta attento, perché la paura della malattia fa stare attenti per poco tempo, invece la cultura della prevenzione è la consapevolezza di avere uno stile di vita semplice ma attento quotidianamente alle cose importanti per prevenire le malattie. È chiaro che io mi rivolgo in prima istanza ai pazienti che hanno avuto già un contatto della malattia, semplicemente perché sono le persone coinvolte, più sensibili, più toccate, ma lo stile di vita vale per loro in prevenzione, che per loro si chiama prevenzione secondaria ed è la stessa cosa che deve essere applicata per le persone che non hanno mai avuto niente, in questo caso parliamo di prevenzione primaria, che non vogliono incorrere in malattia. Ecco, quindi in particolar modo seguite proprio chi è stato colpito da una malattia cardiaca? Noi evitiamo, noi non abbiamo nessuna attività clinica, è un'associazione di persone, non è un'associazione di medici, ci saranno i medici che sono contenti di seguirmi e mi hanno dato la loro adesione, il loro entusiasmo, ma l'associazione è di persone, quindi persone che fondamentalmente da sole riescono con difficoltà a essere concentrati su una buona conduzione della loro vita, intesa soprattutto nel senso dell'attività fisica, dell'attenzione all'alimentazione, in molti casi dell'attenzione al fumo di tabacco, quindi alla difficoltà a smettere, quindi queste cose apparentemente molto semplici, da soli questa esperienza di lavoro, le persone non riescono ad attuarle, vediamo se insieme, tutti insieme si riesce ad avere qualche cosa in più, qualche cosa in più. Ecco, ma in pratica quali sono i principi fondamentali di una buona prevenzione cardiovascolare? Ma ripeto, sono molto semplici, sono molto semplici e nello stesso tempo sono molto difficili da attuare. Una buona alimentazione, che è un'alimentazione semplice, noi abbiamo a disposizione l'alimentazione, la dieta mediterranea, ormai la conoscono tutti, però la nostra alimentazione nella maggior parte dei casi è fatta di abusi, magari non neanche molto consapevoli in alimenti che dovrebbero essere assunti in maniera, che non sono banditi dalla dieta, ma che dovrebbero essere assunti in maniera minoritaria, invece quelli che devono essere assunti in maniera prioritaria, nella maggior parte dei casi si invertono i fattori. Questa è una delle cose. La cosa più importante è l'attività, non più importante, la cosa apparentemente importante è l'attività fisica. La gente pensa di fare attività fisica, perché io lo vedo nell'ambulatorio e mi dicono, ma io mi muovo, faccio un po' di orto, vado a fare la spesa a piedi. L'attività fisica è qualcosa di più, è qualcosa di diverso, qualcosa di più e l'attività fisica fatta in maniera adeguata, bisogna saperlo, che riduce del 50% il rischio cardiovascolare, che è tantissimo, più di qualsiasi terapia ben fatta. Queste sono cose che non tutti sanno e che piano piano cercheremo di far capire. Certo, ecco, ma facendo particolare attenzione, ma soprattutto seguendo i consigli degli esperti si arriva alla guarigione. La guarigione è un concetto che bisogna chiarire. La guarigione da malattie in cui si è in corso si può ottenere, si può ottenere cosa vuol dire? Si può ottenere una situazione in cui ci si allontana il più possibile dal rischio. Perché oggigiorno non si parla di stare bene o non stare male, si parla di rischio cardiovascolare. Uno ha più o meno un rischio, che è una prospettiva, non è una previsione. Una previsione si fa con la sfera di cristallo e non ce l'abbiamo. Certo. Invece la probabilità che una persona incorra o meno in malattie cardiovascolari si individua mediante una carta del rischio, mediante una valutazione che fa sostanzialmente il medico, insomma non necessariamente il cardiologo. E quindi un buon stile di vita può ridurre il rischio e allontanare il contatto con la malattia. Poco fa diceva che il lavoro del medico non finisce con le dimissioni del paziente. In realtà il ruolo del medico finisce con la dimissione del paziente. Il medico ospedaliero, il medico che tratta la fase acuta. Poi bisogna instaurare un rapporto continuativo, che è un rapporto che deve fare il cardiologo in maniera programmata e dilazionata nel tempo, perché non si può ingolfare l'ospedale di attività che non riesce a sopportare. Soprattutto in questo periodo deve fare il medico di famiglia che è obberato da altri tipi di incombenze, ma soprattutto deve fare il paziente singolarmente. Ma la società, proprio modificando quella che dicevo all'inizio, la cultura. E la cultura cosa vuol dire? Vuol dire che la gente si aggrega, cerca insieme di capire quello che deve fare ed è di stimolo all'amministrazione. Ed ecco che qui entra in gioco anche il ruolo importante di un'associazione come questa, è di stimolo all'amministrazione, sia sanitaria che all'amministrazione pubblica, per individuare quelle che sono le esigenze. Perché una buona amministrazione, se vuole avere a cuore in questo caso, il benessere i cittadini deve anche riuscire, tra le mille cose che ha da fare, a offrire dei servizi. Ma non sono servizi, si tratta di offrire dei luoghi, dei luoghi in cui la gente si possa trovare, si possa confrontare, possa fare il movimento, possa organizzarsi e avere tante iniziative orientate appunto sullo stile di vita. Ecco, parlando appunto dello stile di vita, quali sono gli errori più comuni che si fanno? Gli errori più comuni partono dall'età scolare. Quindi gli errori più comuni che vediamo partono proprio dai genitori. È molto grave questo? È molto grave, è molto grave. Noi vediamo bambini e ragazzi che sono completamente sedentari, che hanno già l'obesità addominale. L'obesità addominale non è una questione solo estetica, è uno dei fattori di rischio cardiovascolare. Quindi io vedo da ragazzi che vengono con sintomi di stanchezza, di dolori, che in realtà sono ragazzi che mangiano male, che non si muovono e che hanno cattive abitudini. Quindi partiamo di lì e poi arriviamo alle persone adulte che per motivi di lavoro, per motivi di famiglia, per tutti i motivi che però a un certo punto diventano delle scusanti, non riescono a trovare quegli spazi per fare la giusta attività e per non fumare. Poi sono queste tre cose. Noi ci giriamo intorno, sono tre cose, ma sono talmente ripetute che ormai, come tutte le cose, se noi le ripetiamo alla televisione tutti i giorni, non bisogna fare quello. Voi lo sapete perché non l'ascolta più nessuno, è un mantra che poi non l'ascolta più. Solo finché non si passa. Bisogna, il problema grosso è che faccia parte della vita di tutti. Certo, quindi si può fare molto riunendo tutte le forze. Allora voi avete... È una scommessa. È una scommessa. Voi avete un sito che è www.cuoreinmovimento.it e la pagina Facebook. Abbiamo la pagina Facebook, abbiamo l'indirizzo di posta elettronica che è info.chioccio.cuoreinmovimento.it, abbiamo un numero telefonico che è anche abbastanza semplice, non è riuscito a trovare, che è indicato poi sul sito e che per ora, visto che siamo appena partiti e insomma l'organizzazione non è semplice, è aperto, vuol dire, dalle 17 alle 19 per avere informazione. Poi speriamo di avere... Per ora non abbiamo ancora una sede nostra, nel senso che il Comune di Sanremo ci ha già offerto una piccola stanzetta che noi ringraziamo, ma i tempi comunali sono per forza lunghi, devono essere sbattati. Quindi in questo momento siamo ospiti della Confartigianato a Sanremo che ci dà una stanzetta e che ci dà la possibilità di incontrare la gente. Quindi possono seguire tutte le vostre iniziative attraverso appunto il sito. Attraverso sì, sostanzialmente sì. Bene, direi che siamo arrivati alla nostra conclusione e grazie dottore di essere stato qui con noi. Grazie a lei che mi ha dato questa opportunità. E vi do appuntamento alla prossima puntata. Grazie.